Continua la polemica per la fondazione Sistema Irpinia, dopo il caos creato per la nomina del CDA e l'errore che ha riguardato la vicepresidente Rosanna Repole, il presidente della provincia Rizzieri Buonopane chiarisce. Io non entro proprio nel merito, ovviamente io ho dato incarico agli uffici di fare l'istruttore rispetto ai nominativi che io avevo dato, prendo atto che la stessa Repole oggi non è più disponibile avendo assunto altri impegni, tutto qui. Mi si può dire che le scelte che io ho fatto non convincono, per carità, è tutto legittimo, certo è che ho agito in piena trasparenza cercando di individuare figure professionalmente preparate, competenti che hanno da dare qualcosa, certo le mie scelte non sono state condizionate da rapporti familiari o altro, ancora una volta secondo me occorre precisare questo aspetto, io non ho fatto e non farò scelte che non rispondono a logiche di bene comune. L'idea che si possano avere al vertice di organismi e società della provincia, professionisti che sono professionisti personali di un presidente, questo non accadrà mai con me.